Con l'inizio dell'autunno e le giornate di pioggia e maltempo arriva, il freddo, il via libera, l'accensione dei riscaldamenti è previsto a partire dal 15 ottobre fino al 15 aprile. In una nota però il Comune di Como informa i cittadini che i riscaldamenti potranno essere accesi in anticipo, viste le temperature rigide previste nei prossimi giorni. Nella nota diffusa l'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi chiarisce che gli impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio, quali quelli previsti appunto nei prossimi giorni, possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Quindi viene precisato che i riscaldamenti potranno essere accesi per 7 ore tra le 5 e le 23. E intanto per i prossimi giorni sono previste ancora piogge e temperature in calo, domani inoltre è prevista l'allerta della protezione civile di codice arancione, media criticità per rischio idrogeologico e giallo, bassa criticità per rischio idraulico. Per tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre, previsto tempo perturbato sul territorio regionale con precipitazioni di moderato a forte intensità, informa il bollettino della protezione civile Lombarda. A Como nella giornata di domani sono previsti cieli molto nuvelosi, occuperti, con piogge e rovesci anche di carattere temporalesco. In serata poi prevista l'attenuazione dei fenomeni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16 gradi.